Sit-in di rifondazione comunista questa mattina a Pescara per la pubblica amministrazione. L'Italia sostengono gli aderenti a rifondazione a un numero di dipendenti pubblici molto al di sotto della media europea ed è indispensabile colmare questo gap con 500.000 assunzioni, reinternalizzare i servizi a tutti i livelli, stabilizzare tutti i precari a partire dalla sanità e dai 37.000 assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid. Per questo questa mattina c'è stata la manifestazione nel centro cittadino per chiedere il potenziamento della pubblica amministrazione. L'Italia ha un numero di dipendenti pubblici che è inferiore alla media europea, quindi noi chiediamo che a partire dalla sanità si ritorni a fare assunzioni, a partire dai 37.000 precari che sono stati assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid, a partire dalle ragazze e ragazzi che lavorano qui dentro da mesi come precari per assistere chi è colpito dalla pandemia. A Pescara, come in tutta Italia, sono 37.000, ma abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di osse, di infermieri, abbiamo bisogno poi di reinternalizzare tutti i servizi che sono stati affidati all'esterno, a cooperative e società che possono facilmente sfruttare la mano d'opera. Chi fa le pulizie qui dentro non si capisce perché non debba essere dipendente della Repubblica Italiana e non di una ditta esterna. E poi abbiamo bisogno di dipendenti pubblici in tanti altri settori, a partire dalla scuola. Mancano gli insegnanti di sostegno per i bambini e i ragazzi disabili, mancano in generale gli insegnanti, abbiamo le classi pollaio, abbiamo bisogno di dipendenti pubblici in tutti i settori. Questa canea contro il settore pubblico che è stata fatta in questi anni ha portato solo a essere impreparati rispetto a tante emergenze come la pandemia. E pensiamo che fare queste assunzioni serva anche a combattere la disoccupazione perché è vergognoso che da questo Paese ogni anno debbano emigrare 250.000 giovani, quasi tutti laureati, perché in Italia non trovano occasione di buona occupazione dopo aver studiato ed essersi preparati a dare il proprio contributo alla società.